Il nostro orto didattico che è nato cinque anni fa nell'ambito del progetto Slow Food Orto in Condotta è l'unico orto a livello regionale, l'unico orto scolastico riconosciuto da Slow Food. L'iniziativa nasce dall'idea di un'americana che si chiama Alice Waters che nel 2004 ha inaugurato il primo giardino didattico, primo orto didattico ed è attualmente vicepresidente internazionale di Slow Food. La nostra idea era di trasformare quest'area di pertinenza esterna della scuola, questo giardino in uno spazio fruibile dal punto di vista didattico. Ci siamo qui ad inaugurare la nostra aula verde, un'aula creata proprio dai genitori dove i ragazzi, i bambini della scuola potranno svolgere attività di lettura animata ma anche e soprattutto attività legate proprio all'ambiente, quindi all'educazione ambientale. Ci siamo molto ispirati ai documenti di politica educativa dell'Unione Europea c'è anche il nostro nonno Mario Marinelli che è il nonno ortolano che in questi dieci anni ci ha aiutato a realizzare il nostro orto didattico che tra l'altro è fertilizzato con gli scarti vegetali crudi della nostra mezza scolastica.